Nascondevano dosi di droga e cellulari all'interno di formaggi e salumi per eludere i controlli all'ingresso del carcere di Carinola e portarla così ai detenuti. Sono 14 le persone indagate dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capoavetere nel Casertano dovranno rispondere a vario titolo di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti nonché di accesso in debito a dispositivi idonei alla comunicazione. Le indagini hanno consentito di smantellare una vera propria piazza di spaccio all'interno del carcere di Carinola nel Casertano che si approvvigionava attraverso l'invio di pacchi destinati ai detenuti all'interno dei quali nascosti in formaggi e salumi si trovavano grossi quantitativi di droga ma non solo anche cellulari e schede sim che poi venivano smistate all'interno del carcere a chi di dovere. Un vero e proprio sistema quello scoperto dagli inquirenti che sono riusciti a smantellare tutto. Tra gli indagati non solo persone che erano recluse nel carcere all'epoca di fatti ma anche lavoratori ed un educatore che sfruttavano il proprio ruolo facendo da tramite tra l'esterno e l'interno della struttura. Sequestrate in totale 20 schede telefoniche, 9 cellulari e un chilo e 700 grammi di droga di vario tipo.